Il nuovo mister Il mister del Piedimonte Madese è stato avvicinato per noi da Mitio Bianchi proprio sulla prossima gara di sabato. Allora mister, la Coppa Italia è già messa in cassaforte, due partite vinte. Sì, diciamo abbiamo utilizzato la Coppa Italia senza sottovalutare nessuno, ci mancherebbe, per prendere minuti, per acquistare la condizione, cose che poi serviranno sin da sabato per presentarci al meglio per questa nuova stagione. Ecco la partita di sabato, lei conosce l'avversario? No, questo no, però a me pure se lo conoscessi interessa sempre la mia squadra, logicamente si dà un'occhiata sempre a quelle che sono le caratteristiche e le armi migliori dell'avversario, questo sicuramente. Però oggi interessa molto quello che devono fare i ragazzi, quello che stanno migliorando giorno dopo giorno e quindi interessa soltanto la mia squadra. Questa immersione di campo favorisce o no il Treppini? No, sarebbe stata la stessa cosa perché comunque puntiamo, è un'annata che ci deve vedere per protagonisti, quindi in casa o fuori casa noi giocheremo sicuramente, soprattutto queste prime partite giocheremo sempre per vincere. Ecco, le condizioni dei giocatori? No, appunto come dicevo prima ho utilizzato la Coppa Italia per far giocare tutti quanti indistintamente, però per avere la migliore condizione e quindi per presentarmi venerdì, sabato mattina a fare le scelte senza condizionamenti. In bocca a lui. Crepi, grazie. Grazie.